e buonasera cari amici come state vedete anche ad agosto con questo caldo infernale dopo aver fatto parecchie trasferde senza neanche mai riposarsi immaginate che io vada forse inizio maggio che non faccio un weekend a casa che sono continuamente in giro per tutta l'Italia a cercare di fare tour, a cercare di fare seminari sono stanchissimo, non vedo l'ora di andarmi a prendere la mia settimana sabbatica di ferragosto ma io non vi abbandono come vedete ci sono sempre in questa estate così calda e torrida mi piace passarla in vostra compagnia aspettiamo i soliti 3-4 minuti per vedere quanti siamo e aspettare che ci colleghiamo tutti intanto vi saluto tutti ciao amici, come state? ciao Gabriele, come stai? tutto bene? ciao, ciao, ciao ciao Stefano, Stefanuccio 94 mamma che giovane poi c'è Gianni ciao amici intanto ne approfitto di questo momento per dirvi due cose come vi ho visto il 27 saremo a fare lo skywatching saremo al Monte Musinè ma ne approfitto questo 27 agosto per fare una per fare in un giorno tutto in pratica nel pomeriggio farò la Sagra di San Michele che ne vale veramente la pena perché è veramente una cosa fantastica in più vi consiglio di fare tutte e due perché noi faremo nel pomeriggio faremo la visita staremo un po' assieme in un bosco lì vicino adiacente alla Sagra staremo un po' assieme ci racconteremo un po' di cosa aspetteremo che arrivi il tramonto e poi faremo lo skywatching ai piedi del Monte Musinè quindi poi tempo del tramonto poi faremo dalle 21 21 e mezza fino a mezzanotte per poi ritornare tutti a casa non c'è il pernotto da parte mia non me ne sto occupando io ho intenzione di fare fino a Mazzona fare due o tre ore di skywatching perché tutta la notte diventa veramente stancante perché c'è gente che viene con la macchina poi sta lì e poi ci stanchiamo quindi credo che l'orario migliore sia poi concluderlo in un certo periodo anche perché ho visto che gli avvistamenti molto spesso sono circa verso le 11 quello orario lì quindi sarà una giornata fantastica il 27 io spero che siate in tanti perché faremo una ricerca molto interessante vediamo cosa c'è da vedere però intanto vi garantisco che intanto a San Michele vale la pena poi ne approfitto sempre in questo momento per dirvi che finalmente sarò a Torino il 3 e 4 settembre sarò praticamente verso il corso dell'Unione Sovietica al 415 presso l'Accademia Arche e non posto migliore non potevo trovare perché sto facendo un seminario sugli archetipi l'Accademia si chiama Arche quindi c'è una sincronia perfetta come sempre info e prenotazioni info.lifeview55 chiocciolagmail.com vale anche il web messaggio whatsapp con 3770865 571 e lo rifacciamo pure a Milano quindi c'è la possibilità di farlo a Milano verrà fatto un attimo solo che vi do le altre info verrà fatto vediamo un po' se riesco a farvelo vedere ecco verrà fatto anche a Milano il 10 11 settembre sempre lo stesso numero per prenotare a spazio qua Milano via Andrea Solari 2A io vi consiglio di esserci ovviamente sarà il 10 e l'11 sono dei stanno riscontrando molto successo le persone stanno incominciando ad avere diversi punti di vista e quindi citarrei che diciamo i prezzi sono modici sono abbastanza abbordabili considerando il periodo e soprattutto la media che ci sono sono corsi intensivi sono corsi dove si ci deve impegnare più dai e più ricevi questo e cosa dirvi e poi se vi interessa sempre a Milano il giorno il 20 agosto il giorno di San Bernardo vorrei andare a Chiaravalle vicino Milano sempre se chiamate lo stesso numero vi risponderanno vi daranno tutti i vari chiarimenti vorrei andare a farvi visitare la Abbazia di Chiaravalle che lì ho scoperto anche delle cose interessantissime quindi ne vale la pena questi sono i tour di agosto e l'inizio di ci sarà anche Firenze occhio che ci sarà anche Firenze però ne parleremo magari dopo per adesso concentriamoci su questo allora penso che già siamo abbastanza queste sono io Giorgio in Sicilia non viene più Giuseppe non dipende da me questi corsi io li faccio quando trovo un'organizzazione io da remoto non riesco a organizzare tutto se voi conoscete un luogo dove siamo una decina una quindicina massimo venti per cercare di ammortizzare le spese io vengo volentieri perché se voi ci fate caso albergo cose treno mangiare alla fine uno va lì rischio di rimetterci quindi dipende tutto io andrei ovunque perfino in in Lapponia ma non dipende da me dipende dalle organizzazioni comunque detto questo questa sera io vi lascio una bellissima chicca solitamente i canali diciamo conservano per settembre ottobre quando la gente rientra dalle vacanze dalle ferie conservano diciamo le palle diciamo le punte di diamante per le stagioni dove si diciamo dove c'è molta più attenzione più attenzione io faccio il contrario a me piace sempre essere controcorrente questa è una delle dirette più importanti più belle secondo me perché è qualcosa che sento dentro è qualcosa che infatti la voglio condividere forse con pochi intimi d'estate come vedete io non vi abbandono sto sempre qui il mio numero di telefono ce l'avete quello di confessioni per chiamarmi per qualsiasi cosa riguardante gli aspetti ufologici parla ormai ma quello che parliamo noi sono molto stanco quindi non fateci caso se a volte ho qualche sfondone queste sono dirette come sempre vi invito a mettere un like sulla fiducia perché non ci abbiamo pubblicità se voi ci avete fatto caso tutte le mie dirette cliccate e ve le vedete tranquillamente non ci sono due pubblicità prima di iniziare non perdete un minuto un minuto per cercare di clincare e cancellare tutto da noi si parte subito così quindi c'è anche la possibilità di aiutare il canale in questo periodo molto difficile perché poi appena alla scadenza dell'anno bisogna pagare le piattaforme per cercare di mettere in diretta sia in simultanea sia su facebook che su youtube scusate sono molto prolisso però voglio approfittare di questo momento di respiro me la prenderò calma sarà una diretta abbastanza lunga rimanete con me e possiamo iniziare allora la storia infinita non so se ci avete fatto a caso alla locandina c'è un estraneo diciamo un personaggio che non c'entra nulla nella storia però mi è sembrato divertente mettercelo allora sì parlerò del libro parlerò del libro perché dovete sapere una cosa noi siamo abituati a vedere la storia infinita quello del 1984 il film ma in realtà tutto nasce da un libro di Michael Hende uno dei più grandi geni a mio avviso della letteratura mondiale non sto scherzando mi prendo la responsabilità di quello che dico è vero perché quest'uomo ha una storia fantastica mentre c'è stato un periodo in cui veniva criticato perché in un periodo dove c'era bisogno di azioni politiche di narrativa molto più concreta lui viaggiava con la fantasia era molto esoterico in realtà perché lui non si occupava di cronache al contrario lui attraverso delle storie come la storia infinita raccontava più cronache lui di quante persone si occupavano è un po' come adesso stiamo facendo un po' noi di Life in New noi non ci occupiamo di cronache di politica lui la stessa cosa ma riusciva a dare degli insegnamenti maggiori quindi dava gli attrezzi dava gli strumenti alle persone per combattere certe difficoltà quindi detto questo ci fu anche un problema perché quando il film venne realizzato venne coinvolto Michael Handel ma quando vide la realizzazione definitiva disse di no Wolfram Patterson che era regista anche coautore disse che praticamente il lavoro che aveva fatto Wolfram Patterson era orrendo e addirittura non fu neanche citato per suo volere per il volere di Michael Handel nei titoli di cosa del film il film ebbe un enorme successo perché in realtà il film parla i nostri archetiti in realtà Patterson non ha sbagliato perché ha cercato di fare un sunto del sunto del sunto del libro cercando di utilizzare un'altra simbologia una simbologia più vicina alla parte massonica ok? quindi siccome si parlava di iniziati in poche parole Michael Handel che in realtà era un grandissimo conoscettore della simbologia mondiale non solo massonica e infatti nel libro si evince si evince che c'è tanta filosofia diciamo orientale c'è tanto cristianesimo al contrario di quella massonica e quindi c'è tanta simbologia mistica il problema qual è? che a me piacciono sia il libro che il film quindi questa sera attenzione ci metteremo tutti gli occhiali della simbologia mistica come abbiamo sempre fatto perché queste sono le trasmissioni del nuovo simboli del potere simboli del nuovo potere questa è una puntata particolare dove vi accorgerete che tutto quello che vi ho detto io nel tempo io spero che voi siate andati siete andati a vedere le altre le altre puntate dove prendo certi fattori con maggiore respiro qui li prenderò magari in maniera più collaterale perché mi aspetto da parte vostra che ormai dopo due anni e mezzo di di queste dirette riguardante la simbologia del nuovo del nuovo potere quella che utilizza praticamente mi aspetto che magari un po' un'infarinatura ce l'avete quindi se mi ascoltate è questo allora partiamo subito io infatti ho fatto alcune slide ma la storia ve la dico in soldoni così vi spiego quindi unisco un po' alcune cose del libro e alcune cose del film perché a me interessa la simbologia mistica non interessa tutto quello che c'è dietro perché questo libro più lo leggi e più scopri più lo leggi e più scopri è infinito come dice il film il libro la storia infinita e il libro è infinito perché più lo leggi più scopri ci sono circa 15 strati di lettura io me ne occupo di uno solo ma cercherò di darvi altre infarinature va bene allora di cosa parla la storia infinita è semplice il mondo di fantasia che è il mondo creato diciamo dalla immaginazione umana sta per morire perché a sua volta l'imperatrice bambina questa infanta diciamo l'infante imperatrice sta ammalandosi di conseguenza perché perché in realtà il nulla che non si capisce che cos'è una sorta di vuoto a perdere continua a distruggere il regno di fantasia paradossalmente siccome è legato al mondo dei umani cioè il nostro più c'è non si pensa più alla fantasia più l'uomo perde questa capacità più il regno di fantasia si ripercuote e si distrugge quindi questo nulla sta distruggendo tutto parte così parte che c'è una cronaca diciamo una catastrofe imminente e non si sa che cosa fare parallelamente nel mondo terrestre un ragazzino iniziamo un po' con le slide questo ragazzino che si chiama Bastian in realtà si chiama Bastian nel libro si chiama ecco qua iniziamo con le termoglige occhio che ve le spiego tutte questa sera mettetevi calmi comodi andate a prendere un po' d'acqua io andrò veloce perché qua di roba ce n'è guardate questa storia è una cosa incredibile quando viene detto che un libro per ragazzini è proprio l'apice dell'ignoranza secondo me chi dice una cosa del genere di letteratura non ha capito nulla e neanche di film perché in realtà la storia infinita è un film per tutti per tutti non c'è una concezione universale quindi Bastian che cos'è è questo ragazzino che come vedete qui nell'immagine praticamente intanto nel libro non è così nel libro si chiama Bastiano Baldassar Bucci 3b occhio già incominciamo con la simbologia mistica mi raccomando le lenti perché altrimenti non ci capita nulla ok Bastian praticamente che cos'è Bastian viene presente dal greco dice greco bizantino in realtà io non credo ai fenomeni bizantini perché in realtà la parola bizantina è stata data diciamo nel 1800 ai tempi non c'era il bizantino veniva chiamato in un altro modo le correnti artistiche soprattutto e quindi praticamente che succede in realtà Bastian significa venerabile e Baldassar significa colui che aiuterà il dio e poi Bucci Bucci che viene da bocca quindi 3b perché poi vi spiegherò perché le 3b però ci potete anche arrivare da soli quindi che succede Bastian Baldassar Bucci che in realtà Baldassar è un termine quasi assiro-babilonese che praticamente sì significa colui che aiuta il re una cosa del genere comunque che succede in realtà Bastian quello del libro è goffo è un bambino cicciottello nei film evidentemente il regista Peterson ha pensato ha immaginato che in realtà a livello sapete molto spesso nei film non si può far combaciare la narrativa l'unico che ci è riuscito forse è Peter Jackson con Tolkien cambiando solo il cavallo nero con bianco di Gandalf ma credo che sia stato l'unico che ha avuto la capacità di riuscire a fare le cose a me l'ha dito ma nei film molto spesso le trasposizioni che ci sono nel libro non si rendono a livello di immaginazione cioè non funzionano a livello filmico quindi molto spesso si cambia cosa succede? Bastian in realtà è un bambino nel film come tutti gli altri nel libro è un po' goffo impacciato è complessato viene bullizzato perché non è mai riuscito a diventare quello che sente dentro e crede che è talmente sfiduciato che crede che non ci riuscirà mai ama tanto la lettura conosce tantissimi libri ma sì è un nerd praticamente oggi si chiamerebbe nerd e quindi che succede? succede che ecco è arrivato il primo scusate un attimo che ecco così rimaniamo noi soli dunque che succede? succede che per quanto riguarda invece il film il film inizia che Bastian perde la madre il padre vedo non riesce ad andare avanti infatti fa le faccende familiari cerca di fare anche un po' la mamma non ce la fa Bastian in realtà non riesce a a cercare di maturare il lutto si rifugia nel mondo fantastico il padre gli dice cerca di reagire i professori mi dicono continuamente che tu sei un tipo che purtroppo stai evadendo dalla realtà cerca di reagire gli fa da paternale ma Bastian non l'accetta il film continua ci sono un po' di similitudini che viene bullizzato assolutamente anche dai dagli amici diciamo da questa triade ci sono questi tizi che praticamente prendono il povero Bastian e lo buttano nella discarica se ci fate caso Bastian ha solamente un collare qui dove c'è l'altezza della testa occhio alle simbologie del film che sono veramente interessanti Bastian all'inizio si presenta con questo collare rosso solo il collare nel senso che è la parte materica il colore rosso riguarda il materiale riguarda qualcosa che si deve concretizzare nella realtà non è negativo ma equivale a qualcosa che ti inchioda nella materia quindi che succede lui ha solamente il collare che divide il corpo dalla testa quindi ancora non è pronto Bastian allora che succede se voi ci fate caso i bulli invece hanno tutto di rosso hanno il cappello i zaini ognuno di loro ha qualcosa di rosso e addirittura viene scaraventato ogni volta che viene bullizzato perché non gli dà soldi non gli danno soldi perché gli chiedono soldi lui non ne ha viene scaraventato dentro un cassonetto rosso e infatti nel film è un pugno in un occhio perché in tutta la strada grigia c'è sto questo cassonetto rosso che si illumina a mezzanotte praticamente ed è troppo evidente quindi è una scena voluta e troppo forzata e Bastian viene catapultato sempre in questo cassonetto cosa significa riguardando il rosso viene messo all'interno di un'energia materica quindi viene messo dalla società che non è pronta ormai ormai incattivita viene a sua volta imprigionato dentro un'energia materica lui riesce a fuggire perché e riesce a entrare in una biblioteca da lì incontra Coriandoli viene chiamato così che sta leggendo il libro della storia infinita mentre lo legge si dice che cosa vuoi dice prego perché lui entra e si nasconde dentro questa libreria trova quest'uomo con la pipa molto calmo che si sta leggendo un libro è un'antica biblioteca gli dice guarda che hai sbagliato ragazzino lo provoca gli dice mi dispiace e guarda che la sala di videogiochi è più avanti a voi qui si vendono delle cose rettangolari dove ci sono dei saperi qua si vendono dei libri e mi hai sentito parlare bastian siccome l'unico amore che ha è la lettura si sente un po' provocato da Coriandoli e che cosa fa dice guarda che io sto leggendo io leggo un sacco di libri leggo l'isola del tesoro un sacco di libri interessanti e lui dice ah allora sei un assiduo lettore fa finta di distrarsi e bastian viene preso rapito da questo libro lo prende e lo preleva un'appropriazione in debita non lo ruba gli scrive guarda te lo riporterò più avanti lo voglio leggere e viene attratto proprio a livello magnetico di questo libro che si accorge che è un libro molto particolare e poi è un curiosito perché Coriandoli lo sta leggendo chi è questo Coriandoli? ma se si può dare un possiamo dire un significato all'appellativo del cognome Coriandoli è uno che ha tutti i colori e e lui rientra e ritorna dalla storia infinita quindi è un viaggiatore che è ritornato e ha acquisito tutti i suoi colori ecco perché si chiama Coriandoli e quando si distrae fa sì che ride un po' a quello che ha fatto Bastian perché in realtà lui sa che Bastian non è andato lì per caso ma è un prescelto dal libro spesso poi ve lo spiegherò più avanti allora andando avanti praticamente che succede? Bastian si rifugia in classe praticamente in classe c'è un compito in classe lui non va scusate se salto un po' fra il libro e il film perché a me interessa altro si rifugia in questa cantina della scuola siccome c'è il compito in classe dice va bene a questo punto aspetto che finisce il compito in classe che io non ho fatto non ci voglio andare perché sono arrivato in ritardo mi fanno storie mi nascondo e mi chiudo nella cantina della scuola ora fate caso a questa cantina che è molto interessante questo diventerà lo scenario il teatro di Bastian dove praticamente lui inizierà a leggere il libro si chiuderà in se stesso non si accorgerà del tempo che passa prende una coperta sporchissima e incomincia a mettersi a leggere questo libro e cosa troviamo qui troviamo intanto come vedete un riferimento a quello che ci sarà dopo vedete questo qua c'è poi vi dirò chi è questo qua questo è il Mork però ve lo dirò dopo ci sono come vedete questo qua come vedete a sinistra non so se ci fate caso ve lo allargo un po' così magari lo possiamo vedere meglio un attimo solo ecco qua fateci caso qui come potete vedere qui troviamo delle situazioni molto presaggistiche troviamo qui un punto di riferimento del Mork che poi vi spiegherò cos'è troviamo un velo molto vicino a qualcosa che poi vi spiegherò non voglio io rubarvi la sorpresa comunque è qualcuno molto vicino a lui e poi troviamo soprattutto questo scheletro lui troverà questo scheletro molto interessante perché è la morte sempre che lo veglia cioè in pratica in questo mondo dove vive lui esiste si muore e c'è la morte infatti molto spesso viene visualizzata quando quando Bastian viene deve chiudere la finestra per questioni temporali in momenti critici dove ci sarà la situazione problematica viene sempre inquadrata la morte che lo guarda fateci caso nelle inquadrature c'è la morte che guarda lui che cerca di superare le intemperie quindi tutto questo scenario ha un senso è un motivo questo è il mondo di Bastian ecco Bastian preleva questo libro che ha preso in maniera indebita come vedete c'è anche sempre riferimento della morte che lo veglia vedete il teschio che sta qui però con la scusa che sono tutti diciamo utensili diciamo utensili della scolastici ecco allora che succede lui inizia a leggere il suo libro il libro inizia così c'è questo personaggio vedete questo qua è il cosiddetto mordiroccia c'è una specie di triunviato un incontro tra questo tizio che viene con una bicicletta di pietra lo ricordate famosissimo no? questo tizio qua che sembra molto minaccioso in realtà è molto molto educato scusate ma voglio fare parte di questa combricola perché si ritrova con altri elementi gli elementi sono questo omino questo mucolo qua che sta addosso a una lumaca e poi abbiamo un tizio che viene chiamato nel libro un incubus un incubino viene chiamato è una specie di folletto degli incubi in realtà viene chiamato maghetto nel film non cambia molto che in realtà guida questo essere volante chi sono e più nel libro c'è anche un altro particolare nel libro non sono in tre sono in quattro perché c'è anche un fuoco falto c'è una specie di fuoco quindi sono i quattro elementi i quattro elementi di fantasia si incontrano tutti al centro in realtà ognuno di loro spiega che sono degli ambasciatori che sono stati portati dai loro rispettivi le regni dove devono andare a parlare con l'imperatrice perché c'è qualcosa che sta accadendo in tutti i regni in poche parole questi quattro personaggi che noi vedremo durante il film sono i quattro elementi perché c'è l'acqua che dovrebbe essere un po' la lumaca dovrebbe essere questo che è l'aria e poi la terra e il fuoco che qui non si vede nel film non si vedrà mai c'è praticamente questo viso cosa fanno i quattro elementi si lamentano e stanno dicendo che sono stati stanno incominciando ad avere enormi problemi nei loro luoghi e vogliono chiedere spiegazioni al centro di fantasia cioè dove c'è l'imperatrice perché in poche parole i loro regni stanno per essere indiottiti da qualcosa che non si capisce la chiamano nulla hanno tutti a fare un problema si dirigono tutti nella torre d'avorio e lì troviamo la famosissima torre d'avorio che cos'è questa torre d'avorio? come vedete intanto guardate la simbologia se voi ci fate caso a sinistra in un giorno illuminato a sinistra troviamo la stella verso destra la stella alla destra del padre quindi qua siamo in un'energia molto più vicina a qualcosa della creazione poi vi spiego l'importanza che c'è nelle costellazioni possiamo chiamarlo come un sole questo un sole che si rivolge verso destra e quindi abbiamo la destra del padre ma al centro abbiamo questa torre d'avorio la torre d'avorio in realtà ha un simbolo molto particolare perché per i cristiani riguarda la purezza per i latini veniva chiamata torre ebure eburnea torre eburnea anche Salomone ne parlava di questa torre e poi la potete vedere ve la faccio vedere meglio un attimo così ci sono anche ecco la potete vedere praticamente praticamente nelle luternare praticamente se voi ci fate caso anche nel rosario troverete che si parla di questa torre molto spesso sono praticamente le litanie luternarie che sono l'antico rosario che si fa ancora adesso si fa si parla di questa torre ci sono dei riferimenti riguardanti anche al mondo dei sogni perché i greci dicevano che attraverso una torre di avorio si poteva accedere al mondo dell'aldilà cosa accade praticamente in realtà sono tutte raffigurazioni della dea madre per noi riguardante la simbologia mistica è anche Maria perché anche Salomone viene indicato come questo cucollo lungo d'avorio se voi ci fate caso nelle raffigurazioni medievali trovate molto spesso anche rinascimentari questa Maria con collio lungo viene indicato dal fatto perché Maria viene additata alla torre viene avvicinata accostata per il simbolo della purezza della dea madre ma infatti troviamo anche delle simbologie in merita questo se voi ci fate caso guardate qua più vedete il film se voi ci fate nel film c'è questa vedete la triquetra questa è praticamente la concezione che la torre d'avorio nasce il dio il figlio e lo spirito santo la triquetra riguarda questo ma soprattutto è al di là del tempo perché quando verrà distrutta fantasia l'unica cosa che rimarrà ancora in piedi nello spazio è praticamente la torre d'avorio dove nasconde dentro all'interno di questo fiore e qui abbiamo anche un riferimento alla madonna alla divinità ma non madonna in sé quella che conosciamo noi quella la purezza che si è incarnata per fare il figlio di dio noi qui stiamo parlando di un riferimento assoluto la dea madre è il femminino sacro è dio che si riconosce nella femminilità ok è un dio abbastanza compiuto perché è un dio che conosce la parte sua femminile e qui abbiamo un riferimento della triquetra quindi il presente il passato e lo spazio diciamo del qui e ora dove sboccia addirittura un fiore e sopra in altro c'è se voi ci fate caso c'è anche una rosa vedete c'è anche una rosa ecco queste sono tutte simbologie mistiche per stare a indicare che questo è un dio compiuto il dio incompiuto come vi ho spiegato già in altre dirette è il padre e il figlio con lo spirito santo ma senza l'amore senza la consapevolezza di sé ok quindi andiamo avanti poi praticamente ecco c'è questa specie di triumvirato c'è questo con riunione di tutti gli esseri di fantasia che casualmente allora dovete fare un piccolo sforzo dovete immaginare che fantasia sia l'eden ok dove c'è un dio creatore è una specie di paradiso fantasia è un paradiso quindi cosa fa in poche parole cosa succede questi tizi si mettono tutti in riunione vanno tutti dall'imperatrice ma l'imperatrice non la vede nessuno non l'ha mai vista nessuno l'unico modo per vedere l'imperatrice è colui che dà un nome vedete il riferimento a dio perché ci sono i 72 nomi di dio riguardante la cabala e tutto il resto perché ogni volta bisogna dare un nominativo a dio perché vi spiego questo è un po' complessa la cosa però ve la spiego in solloni questo è un paradiso creato da dio ma è un paradiso che vive attraverso un altro creato perché dio ha creato non solo i primi motori immobili attorno a sé ha creato anche qualcos'altro ha creato anche noi in poche parole ora ve lo spiegherò più avanti è una cosa estremamente complessa ma ci possiamo arrivare ok quindi sta succedendo questo triunvirato di questi esseri sempre abitanti di fantasia dove vengono avvicinati soprattutto da da questo punto di riferimento che è Cairon questo che state vedendo è Cairon chi è Cairon Cairon è un medico che cerca di guarire anche l'imperatrice anche l'imperatrice l'infante imperatrice ma non riesce a guarirla perché l'imperatrice è strettamente connessa con il suo creato quindi più il suo creato muore e più lei si ammala fino a quando rischia di estinguersi allora Cairon fa una riunione con tutti con tutti gli abitanti del creato di fantasia e dire qui l'imperatrice sta morendo dobbiamo fare qualcosa cioè se voi ci fate caso Cairon chi è in realtà? è un essere mitologico che praticamente Chirone nell'antica mitologia greca ellenica Chirone era figlio di Cronos era mezzo cavallo e mezzo uomo qui se ci fate caso qui a fantasia sono tutti dei duali uniti insieme perché mentre da noi nel mondo reale sono tutti divisi qui invece i duali sono tutti vicini sono tutti uniti un po' come come diceva Platone che l'uomo in un'altra dimensione prima di arrivare nella nostra realtà erano legati dagli ombellichi e gli ermafroditi l'uomo era un ermafrodita che significava che era tutt'uno non era duale Chirone spiega tutto il creato e vediamo chi sono questi infatti come vedete tutti gli abitanti di di fantasia sono tutti dei duali sono tutti duplici però stanno assieme infatti questo make up non è a caso tutti gli esseri dimostrano due facce perché sono ermafroditi sono due persone legate maschile e femminile non lo so fate voi o sono famiglie e femminile unito maschile e maschile unito questo è a seconda della sensibilità dell'autore ma se ci fate caso guardate qua Chirone ha la stessa forma della apertura da dove alberga dove alberga Dio lo chiamo Dio è l'infante bambina l'infante imperatrice vive dentro questa luce questo è una specie di bozzolo viene chiamato uovo ma qui ha una forma quasi come se fosse una specie di bocciolo ecco da questo bocciolo questa è l'entrata dove fuoriesce una luce immensa e casualmente Chirone che in realtà nel libro Chirone ha la forma giustamente di cavallo e uomo qui invece ha la forma quasi da pesce perché in realtà vedete qui Patterson a differenza di Michael Hendon è stato secondo me anche interessante perché da questo si evince quello che ci vuole dire il regista il regista non ha scelto di creare Chiron sotto forma di cavallo ma lo ha voluto fare da pesce perché il pesce è legato alla figura mistica della viscera di pesce mistica che c'è praticamente che notate in tutte le varie in tutte le varie praticamente raffigurazioni medievali e rinascimentali e anche a ritroso e anche gotiche e quindi che succede in realtà lui è un'emanazione di quello che fuoriesce dal divino tra l'altro il mondo di fantasia non ha mai visto l'imperatrice perché è il suo creato quindi non ha il diritto di vedere Dio viene vista come faceva Aronne Dio viene visto attraverso i suoi seguaci e casualmente se voi ci fate caso questa forma qui abbiamo è un'indicazione della cosiddetta mandorla dorata per i cattolici oppure potrebbe essere pure la viscera di pesce famosissima mistica da dove fuoriusciva dalla dimensione di Dio a fuori quindi l'ho trovata affascinante questa cosa e finalmente dice chi vedete qua dietro guardate un po' se ci fate caso se ci fate caso qua sono tutti duali sono tutti animali duali dove si trovano in uno quindi il mondo di fantasia non è altro che il mondo è creato dalla fantasia dell'uomo ma come siccome è perfetto a differenza del nostro mondo duale tutti gli esseri sono uniti sono uniti in un unico un po' il percorso che dovremmo fare noi che nell'uno dobbiamo andare in due dobbiamo nella nostra terra diventare due e poi da due dobbiamo diventare uno ecco qui sono già tutti uno ok quindi questo è il particolare si cerca praticamente un un praticamente un un eroe perché si dice che solo l'imperatrice bambina ha scelto fra tutti diciamo gli abitanti di fantasia l'unico che può aiutare il il mondo di fantasia è Atreiu fa il nome di questo Atreiu nel libro è un po' diverso perché è Chironte e Cailon che va a cercare Atreiu e invece qui hanno semplificato la cosa ed è Atreiu che si presenta mi avete chiamato e Cailon dice no cercavamo il grande prode Atreiu che è stato nominato dall'imperatrice e lui dice guardate che Atreiu sono io ok guarda che non avete sbagliato e lui fa praticamente dice io in realtà è un pelle rossa solo che viene chiamato dalla tribù dei pelle verde occhio sempre ai colori questo il libro se voi ci fate caso se voi lo leggete tutto quello che riguarda fantasia è scritto in verde tutto quello che riguarda Bastian cioè nel nostro mondo è rosso capito quindi lui è della tribù dei pelle verde perché in realtà nel nostro mondo ci sono i pelle rossa avete capito come è il gioco questo è un gioco che Michael Henders si diverte sempre a fare quindi lui che è un pelle rossa diventa un pelle verde diciamo nel regno di fantasia ma che cosa dice io stavo preparandomi alla mia iniziazione da indigeno perché noi combattiamo il bufalo purpureo vedete il bufalo nel mondo di fantasia è rosso invece da parte nostra non lo è quindi c'è sempre questo gioco dove i pelle rossa sconfiggono il bue purpureo che è la classica iniziazione che fanno i pelle rossa che quando vanno a caccia mangiano il cuore del bufalo perché è segno di potenza quindi questo tizio si presenta non so ecco qua scusate allora che succede succede praticamente che questo questo tizio si si sto leggendo si si sto leggendo vabbè ormai è così detto questo andate avanti non vi preoccupate non ti cura di loro ma guarda e passa detto questo cosa significa significa che lui si presenta lì dice della tv dei pelle rossa ma chi è Atreliu avete mai fatto caso al nome? il nome Atreliu significa A Tre U cioè io sono A mentre Bastian è tre volte B nella terra ok quindi è Bastian Baldassare e Bucci quindi lui è B state iniziando a capire Atreliu è A Tre U quindi lui è il tre il trismegisto è colui che è la completezza del padre figlio e spirito santo ma chi è allora questo Atreliu? Atreliu è l'Adam Kadmon se siamo nel paradiso terrestre ok uno che siamo nel paradiso terrestre lui è il primo uomo è l'uomo che è la coppia che viene utilizzata per tutti gli alti regni creati da Dio da dove fuoriescono dalla viscera di pesce stiamo iniziando a capire certo c'è anche il discorso delle sefirot dovrei spiegare un po' di cabalà è lì però facciamo notte quindi Atreliu è l'uomo primo e l'Adam Kadmon è la coppia nel mondo diciamo di fantasia che serve a Dio per è il primo Adamo ok è il primo Adamo che è differente dalla natura è l'uomo è il tizio che dà il nome alle cose nel regno di fantasia lui dà il regno alle cose perché Adamo quando venne creato lui dava il nome a tutte le cose perché è importantissimo perché in realtà la seconda creazione di Dio è quella che fa Adamo attraverso il nome alle cose perché Dio non è consapevole del suo creato e quindi crea un essere pensante cosciente che pensi a quello che fa lui ve l'ho già spiegato altre volte questa cosa però è complessa ve la spiego di nuovo Dio è come se fosse in una camera buia grazie alla luce prende consapevolezza e sa di creare ma non è consapevole ha bisogno di uno con la coscienza che gli dica a lui chi è perché lui dentro una stanza non sapeva chi fosse quindi cosa fa lui crea l'Adamo che dà il nome alle cose questa volta però Atreliu non serve perché nulla che poi vi spiegherò che cosa significa nulla sta distruggendo tutto quello che c'è oltre il creato quindi se l'Adam Carbon è funzionale a a fantasia bisogna trovare un sistema un rimedio che sia oltre quindi nel nostro mondo e Atreliu non c'entra nulla col nostro mondo quindi che cosa fa sì in poche parole lui è figlio è creato dell'imperatrice bambina ma è creato non nella natura perché la natura è inconsapevole c'ha gli istinti lui invece ha come spiega anche Schopenhauer lui ha gli impulsi lui sceglie lui è consapevole la consapevolezza è dire esiste un dio ecco e dio ne è consapevole tutto questo vi garantisco che al fine della trasmissione di questa diretta avrà una luce molto più forte e avrà un'importanza incredibile perché questo film la storia infinita e il libro sono fra i libri più importanti mai scritti della narrativa mondiale ve lo posso garantire e mi prendo sempre le mie responsabilità quindi cosa succede succede che Atreliu Chironte dice devi andare per ordine dell'imperatrice devi fare una missione devi andare oltre le colonne d'Ercole e devi scoprire come poter guarire l'imperatrice perché se l'imperatrice guarisce tu automaticamente salvi tutta fantasia questo povero ragazzino che tutti lo sbeffeggiano all'inizio perché tutti si immaginavano dovrebbe avere dieci anni non è specificato comunque dovrebbe essere un ragazzino e Chironte alla fine dice non sei tu lui dice cosa volete da me volete che io faccia questa missione per l'imperatrice va bene però non ti devi portare le armi prima regola non devi portarti le armi e ti daremo qualcosa gli daranno questo quello che cos'è quello è Laurin ok Laurin che cos'è Laurin è un oroboro è il simbolo di Dio cioè Dio utilizza Laurin e l'imperatrice utilizza Laurin non l'ha mai usato perché l'imperatrice è famosa per non aver mai interagito non ha mai preso provvedimenti nel suo mondo si limita solamente al creato accetta il bene e il male di fantasia Laurin è la testimonianza viene incoronato addirittura con questo ciondolo a Treliu e gli dice ora che indossi Laurin tu non devi più combattere tu sei un testimone Laurin questo Laurin è particolare perché non è un oroboro c'è anche è uno Yin e Yang che si intreccia con un infinito è molto particolare è un simbolo è un Laurin un po' più complesso un po' più complicato però sta a significare come vedete il bene e il male di cui ovviamente abbiamo sempre detto che nel mondo esoterico Dio è bene e male ok lo so che suona strano per alcuni però Dio è il male funzionale al bene quindi Dio è detentore del bene e del male quello che tema che teme Dio sono altre cose e qua accade questa è una bellissima parabola biblica questo libro quindi Laurin ha questo potere gli dicono tu devi abbandonare i tuoi diciamo le tue armi perché se tu utilizzi le armi sei funzionale occhio sei funzionale al tuo nemico perché fai crescere la violenza quindi non devi fare nulla non devi avere giudizio devi essere un testimone e fatti seguire da Laurin tu non devi prendere non devi prendere decisioni devi lasciare il libero arbitrio la causa degli eventi tu devi essere testimone non ne devi essere vittima niente devi essere una specie di monaco tibetano vai lì e vai dove ti porta Laurin vabbè non l'ho mai fatto però lui si mette in cammino e incomincia a andare per tutti i mondi diciamo i mondi di fantasia incomincia a andare fino a quando arriva in una palude col suo cavallo Artax chi è Artax? è il cavallo bianco attenzione a questo cavallo attenzione perché questo è il cavallo sempre riguardante l'Adam Cadbon che è il compagno della purezza attenzione che questo cavallo Artax in realtà è molto più importante di quanto potete immaginare anche se si vede poco Artax è la parte pura la forza l'anima del creato di fantasia che sta accompagnando il proprio Adamo il proprio Atrelium cosa succede? nella palude della disperazione e qui c'è una delle scene più commoventi purtroppo e più tristi per la quale è conosciuta la storia infinita soprattutto su questo aneddoto del cavallo che Artax praticamente si deprime chi è vittima di questa è vittima di questa come vi posso dire palude è vittima della depressione è la palude morente più sei sconfortato e più le sabbie mobili ti portano giù e quindi che succede? il cavallo agisce in una maniera incredibile a parte che secondo me il cavallo in questo film fa la più grande interpretazione diciamo del film perché in realtà il cavallo rimane fermo allora Atrelium fa cammina cammina siamo nella palude della disperazione non ti devi disperare non essere vittima scusate non devi essere vittima il cavallo invece rimane fisso fermo poi cosa succede non si muove più e lui gliene dice di ogni cammina cammina Artax Artax e alla fine la scena è orrenda a me ha fatto sempre piangere da piccolo Artax si lascia morire in realtà Artax non muore per depressione Artax muore perché è giusto è giunto il suo momento siccome l'Adam Cadmon deve diventare qualcosa di più importante che non è più funzionale a Fantasia perché lui è l'Adamo quindi serve a pensare tutto quello che Dio fa perché lui è la consapevolezza Artax non serve più Artax in realtà capisce che non è più il suo momento io non sono più funzionale ad Adamo anche se lui mi dà il nome alle cose lo grida io non servo più perché bisogna dato che Fantasia sta morendo bisogna fare uno step successivo e qual è lo step successivo lo vediamo più avanti in realtà il cavallo muore per diventare qualcos'altro cosa succede praticamente andando avanti da solo depresso quando il cavallo si lascia morire incontra Morla questa famosa tartaruga ve la ricordate la tartaruga lui si trova sopra un monte casca da questo monte e trova questa tartaruga chi è Morla se voi ci fate caso Morla è intanto si risveglia da un lungo sonno e è totalmente cinica e di un cinismo incredibile e lui dice scusami tu che sei un antenato Morla mi puoi dire come faccio io ad aiutare Fantasia come faccio ad aiutare la principessa e poi è depresso perché il suo cavallo è morto come faccio in realtà Morla è la divinità celeste è una divinità è un dio Morla è la tartaruga celeste ancestrale degli indiani d'America lui è vestito da pelle rossa Morla è la tartaruga il dio della tartaruga è la dea madre dei Dakota i Dakota credono che Dio Dio padre fece cadere sua moglie sulla terra quando prese a Suns la forma di tartaruga in realtà un castoro prese la terra che stava sotto l'acqua e gliela mise di sopra e da quel momento Morla se voi infatti ci fate caso Morla sopra c'è la terra infatti lui si attacca a un albero che sta sopra Morla Morla è un'altra divinità e siccome è un incontro vedete quanto Michael Enden è complesso è un incontro fra i Dakota e la tartaruga celeste con lei che doveva riportarli di nuovo dai fratelli delle stelle perché la leggenda vuole che sul monte del diavolo praticamente la tartaruga celeste si doveva fermare e portare via tutti i vari pelli rossa e portarli dai fratelli celesti questa cosa non avvenne quindi qua c'è un incontro fra la tartaruga ancestrale e il pelle rossa cosa fa questa tartaruga starnutisce il soffio se voi ci fate caso il soffio riguarda anche lo spirito l'anima e quindi il fatto che lui butta aria starnutisce nei confronti del suo creato che è il pelle rossa che è Atreyu che fa parte delle varie culture indiane pelle rossa in realtà sta creando una forma di divinazione ma Moira dice delle cose fantastiche perché in realtà lui dice come faccio a salvare le fantasie lui fa non me ne frega nulla perché lui essendo un'altra divinità che non c'entra nulla con la divinità di fantasia dell'imperatrice lui dice io del nulla non mi interessa niente il mondo è ciclico sono secoli che io vivo talmente sono tanti secoli che sto in questo universo che addirittura per farmi compagnia parlo per due se voi ci fate caso Moira dice noi ma in realtà il noi è perché lui è una divinità duale avete capito il gioco? quindi dietro questo tartarugone mostriciattolo c'è una divinità che non gliene frega nulla assolutamente di fantasia perché lui è un'altra cosa dormiente quindi non consapevole e che addirittura nel duale non è una come è l'imperatrice che addirittura è madre di se stessa lui è lei è duale è rimasta lì assopita guarda su Moira si dovrebbe fare una diretta solo su quello perché è un personaggio stupendo ma vi ci avete mai fatto caso questa cosa? quindi e poi Moira fa una battuta meravigliosa perché dice qui anche se succede qualcosa non cambia niente anche morire è già qualcosa magari si morisse qui è tutta una noia qui è un continuo gente come te non visti da secoli sempre si vive e si muore si muore e si vive è proprio stanca di vivere quindi è molto comica però però dato che è una divinità sa e infatti con una strategia l'Adam Calmon a Treiu gli dice ma allora dato che non te ne frega niente mi puoi dire che cosa serve e lui dice sì in effetti hai ragione c'è qualcosa che puoi cosa serve all'imperatrice per guarire glielo dice Moira un'altra divinità il film in realtà lo risolve Moira perché gli dice all'imperatrice per sopravvivere serve serve un nuovo nome e lui fa un nuovo nome ma che significa? lui è l'Adam Calmon è a Treiu e lui dà il nome alle cose come mai non riesce a dare il nome all'imperatrice? basterebbe che a Treiu desse un nome all'imperatrice e tutto ritornerebbe come prima perché l'imperatrice sopravvive ogni volta che ognuno va nel regno di fantasia salva fantasia perché dà un nome all'imperatrice tutto Michael Händel la filosofia di Michael Händel e secondo me anche la mia è tutta concentrata nel dare consapevolezza perché senza nome non sei niente il nome è il pensiero che ci vuole perché per dare un nome devi pensarlo ci vuole l'idea e quindi Dio ha bisogno di essere pensato per esistere questo è il gioco ma Treiu quando Moira gli dice ha bisogno di un nome dice cavolo e come mai non glielo posso dare io perché tu sei dentro fantasia tu sei nell'Eden bisogna la tartaruga gli fa capire che bisogna andare dall'oracolo a farsi dire dove si trova la persona che può dare un nuovo nome perché tutti gli abitanti di fantasia danno un nome all'imperatrice per essere lì perché ci sono dentro fanno parte del creato e anche se danno un nome non prendono consapevolezza Moira gli dice che deve andare dall'oracolo Ululala oracolo Ululala dove gli dirà quale è realmente la persona che può dare un nome e qui bastia nel frattempo legge si sente coinvolto infatti cosa succede succede una cosa un po' complessa la tartaruga lo spaventa e incomincia a urlare e lo sentono tutti infatti questo è il primo momento in cui bastia dal mondo nostro riesce a interagire con il libro perché il libro cosa succede è interattivo più luga è avanti nella storia più ti coinvolge è un libro dove viene fatto da chi legge ok quindi che succede il libro quando si spaventa che vede la tartaruga in realtà non si spaventa per quello nel libro si spaventa quando vede un ragno gigante ma è la storia poi la si divide non ne parlo perché si divide il ragno gigante che fa spaventare bastian in realtà è un'altra divinità e ne ho parlato nella mia diretta quando parlo di it il film horror che in realtà it è un ragno è un'entità cosmica ancestrale che viene da altri universi si scopre questo alla fine che it è un'entità nascosta che vive nel nostro mondo ma in realtà come la tartaruga lui è una specie di antitesi il ragno se voi ci fate caso sono sempre tentacolari pentacolari quindi hanno queste e quindi il ragno rappresenta questo però qui non ne parla il film starnuta Moira bastian urla lo sentono tutti è la prima interazione che c'è fra il regno terrestre e il regno di fantasia andando avanti il film siamo già quasi a metà bastian a treliu si lascia morire si lascia morire il nulla finalmente lo raggiunge il nulla viene indicato con Mork ma non è il Mork in realtà il nulla non viene mai specificato bene nel film che cos'è il libro lo spiega bene il nulla è il vuoto quello che non esiste non è il male ok non è il male è l'inesistente infatti dice che il popolo dei fantasmi quando ha provato a mettere un piede nel nulla perde il piede non viene tagliato è come se non fosse mai esistito cioè tutti gli abitanti di fantasia in realtà il nulla è come un portale una voragine dove tu gli metti quello che è creato metti dentro qualcosa in realtà non esiste più non torna più in realtà poi Mork che è un lupo il famoso lupo che vedete voi viene spiegato benissimo nel film nel libro eccolo qua Mork in realtà è un individuo molto particolare non è il male assolutamente lui in realtà per metà del film e anche nel libro lui accompagna il nulla quindi lui si serve del nulla fino a quando raggiunge raggiunge Atreliu Atreliu sta per soffocare sta per morire perché si lascia andare depresso non ce la fa più a sopportare tutto questo peso infatti è il fallimento dell'Adam che non serve più in questo in questo mondo viene sta per essere ucciso da Mork il lupo nero e in realtà chi lo va a salvare finalmente arriva lui l'individuo più amato diciamo del regno quello che ci ha fatto sognare il cosiddetto Falcor il fortuna del drago che si chiama Fukur nel libro però Falcor chi è? guardatelo bene lo faccio vedere meglio cosa accade qui? questa è la prima immagine Falcor viene dalle nuvole chi è Falcor? avete capito perché il cavallo Artax doveva morire? perché in realtà si è sacrificato per rinascere di nuovo come Falcor infatti è bianco anche lui Artax in realtà è collegato a Falcor sono la stessa cosa solo che uno era funzionale solo al regno di Fantasia e l'altro invece è funzionale a quello che bisogna fare bisogna andare oltre Fantasia e il cavallo non ci può andare quindi in realtà è la stessa energia e siccome stiamo parlando di padre figlio e spirito santo chi è che va oltre il tempo chi va oltre i mondi lo spirito assoluto lo spirito santo ne abbiamo tanto parlato quindi il fortuna drago in questo caso è la terza parte divina è lo spirito santo è la parte della coscienza di Dio che va oltre il suo creato è quella che dà la Pentecoste è tutta questa filosofia religiosa per questo il cavallo si lascia morire in realtà Artax è lo speculum di Falcor sono la faccia della stessa medaglia per questo non muore muore il cavallo bianco perché non è più funzionale ad Atrelu e viene salvato mentre viene mangiato da Mork Atrelu viene salvato dal fortuna drago questo fortuna drago casualmente ha la stessa faccia di cane di Mork quindi Mork è il male in questo caso è la parte oscura e il fortuna drago ha la faccia di cane come lo è Mork quindi è lo speculum dell'altro ok? quindi è la parte di Dio cosciente animica bene e Mork è la parte opposta di Dio o meglio poi ne parleremo perché c'è troppo da dire figurate quanto siamo? a un'ora? datemi altri 45 minuti perché è lunga allora andando avanti ecco qua e finalmente qua abbiamo il nostro Falcor che prende il nostro amico Atrelu se lo mette lui mentre dorme se lo mette accusciato e sono è tutto guarito Atrelu finalmente è stato ripulito non si sa da chi e in realtà il drago gli dice guarda ti ho salvato sì in realtà si lascia andare e questo me lo sono dimenticato a dirvelo in realtà Atrelu si lascia andare perché Mork gli dice che praticamente l'oracolo sta a 10.000 chilometri 10.000 chilometri rispetto a dove è messo lui e lui dice cavolo come faccio ad arrivare lì il tempo che arrivo lì a piedi senza cavallo io praticamente sono morto e in più non sono arrivato al fine al mio compimento in realtà cosa succede lui prende il fortuna drago che lo avvicina all'oracolo quindi ecco qual è la funzione che Artax non poteva fare il fortuna drago in poco tempo lo porta direttamente vicino l'oracolo di Ululaia l'oracolo diciamo meridionale il meridione viene chiamato del sud ok incontra questi due personaggi chi sono questi due personaggi Anglicook e Urguza Urgura Urgura è la moglie e sono tutte due brutti molto brutti sono due gnomi molto simpatici e che hanno aiutato il nostro Atreio a rifocillarsi a ripulirsi dalle indefandezze della palude quindi lo hanno salvato che succede Anglicook è un continuo studioso che sta studiando cosa c'è oltre l'oracolo cosa sono questi due personaggi sono lo scienziato cioè la scienza e la druida la parte alchemica sono tutte e due brutti come la fame ma sono essenziali infatti sono perfetti come allegorie della scienza e del druido tutte e due non si sopportano sono nemici però sono marito e moglie quindi come vedete Michael Hender ci sta spiegando ci sta dicendo che in realtà questi due personaggi sono complementari però in realtà fanno parte tutte e due del sapere per aiutare Altreliu a superare le difficoltà nella vita c'è bisogno di scienza ma altrettanto di alchimia e di druidi quindi sono brutti come la fame sono simpaticissimi e sono quelli che noi abbiamo la consapevolezza che abbiamo noi delle scienze delle discipline purtroppo è così lo aiutano e gli spiegano che cosa sono gli oracoli se voi ci fate caso gli oracoli sono due sfingi una rispetto all'altra di solito quando due entità simboliche vengono messe una davanti l'altra è perché devono nascondere un segreto quando vediamo invece che due entità nei simboli hanno mi state seguendo hanno praticamente le facce rivolte verso diciamo l'esterno è perché i due devono guardare i poteri esterni ma devono guardarsi fra di loro cioè si guardano le spalle però le loro attenzioni sono rivolte all'esterno quando vediamo due individui due simboli che sono vicini è perché devono custodire un segreto e guardarsi l'uno con l'altro per vedere che l'altro non tradisca ecco quindi le sfingi sono di natura egiziana diciamo rappresentano anche il sapere hanno le zampe a terra che riguarda anche un aspetto elementare hanno le ali quindi sono in realtà questi sono quelli che si vedono in realtà sono le porte delle sfingi cosa accade in realtà dal punto di vista massonico Atreliu nel film molto più specializzato su questa simbologia Atreliu è una specie di massone che deve fare il cammino dell'iniziato lui che cosa fa da apprendista passa direttamente tutta la vita l'iniziazione fino a quando deve arrivare davanti alla porta del tempio questa è la porta del tempio sono le due colonne Joachim e Boaz le colonne massoniche che sono la saggezza e la forza e che ci vogliono per superare l'ostacolo per arrivare al tempio queste due sfingi se non sei pronto praticamente si accorgono della tua insicurezza e ti fulminano cosa sono in realtà bisogna avere non loro la chiamano nel film fiducia in se stesso in realtà è se tu conosci te stesso perché in tutte le porte massoniche in tutte le tempi delle fratellanze significa conosci te stesso ok si hai ragione scienza e la medicina scusami scusami scienza e la medicina hai ragione però ho detto druidi ho detto druidi perché mi veniva in mente qualcosa di di celtico quindi cosa succede lui è un profano no è un iniziato perché il profano rimane fuori rosario il profano non è non può più entrare non può mai entrare invece a lui gli si dà la possibilità di entrare ma solo se conosce se stesso il profano non potrà mai entrare quindi lui è un iniziato diciamo è le prime armi dove sta bussa al tempio no alla porta del tempio quando se lui ha fiducia in se stesso le sfingi lo fanno entrare e infatti lui entra riesce a trelio a entrare perché conosce se stesso qui entriamo nel cuore della simbologia mistica dopo aver superato la prima prova c'è la seconda prova lui si trova davanti uno specchio la neve il freddo come vedete prima c'era il giallo ora c'è il bianco quindi che succede lui deve o trepassare questo è il primo percorso che lui incontra quando è appreddista dal chiave massonica in realtà lui trova questo trova lo specchio e che cosa è questo specchio in realtà viene visto solamente come se tu rifletti se stesso tu hai paura e la seconda prova è vedere il tuo vero io chi è secondo me è un'altra cosa secondo me non è questa questo è l'Adam Carmon che sta per superare che cosa la dimensione della mandorla dorata o la viscera di pesce infatti lui che cosa rivede davanti lo specchio lui rivede Bastian che sta leggendo nel frattempo la storia quindi Bastian sta leggendo che Atreliu vede Bastian infatti dice ma è impossibile perché il libro si aggiorna mentre Bastian sta continuando a leggerlo cioè si crea il libro ma Atreliu non vede se stesso vede l'Adamo che ha creato per la terra quindi in realtà Atreliu non è l'Adamo terrestre che conosciamo noi è l'Adam Carmon è il primo uomo è l'uomo la coppia che l'essenza che è stata le sefilotte che sono state create che devono andare in questa dimensione dove c'è l'Adamo Bastian va bene quindi che succede qui c'è un altro troll quindi che succede succede praticamente che l'Adam lui si sta rispecchiando in questa cosa cosa fa praticamente poi quando Bastian si accorge di questo quando vede per la prima volta l'Adam Carmon e rispecchia se stesso la prima cosa che fa è accendere tre candele questo è in onore di Atreliu quindi Bastian adesso è consapevole che il libro che sta leggendo si crea attraverso la sua fantasia e Atreliu il suo pensiero è Atreliu da quel momento che si rispecchia si vedono si conoscono sono consapevoli e che cosa fa lui lui accende tre candele Atreliu da questo momento è trino nel libro nel film poi si vedranno sempre due candele quindi il duale perché lui è sempre nel duale nella terra però in questo momento ne accende tre questo è interessante Atreliu si trova finalmente davanti all'oracolo del sud che viene indicato attenzione viene indicato con una luna che in realtà non è una luna ma è la stella di Sirio e viene indicato con nel film come le seconde sfingi identiche alle prime di bianco nel libro non è così nel libro è una voce senza corpo è una voce che fa eco l'oracolo ulala ula ula l'oracolo meridionale in realtà è una voce che secondo me era molto più carino ma in realtà nel film hanno voluto utilizzare il doppio quindi le seconde colonne la seconda lunare mentre le prime erano dorate le seconde sono lunari e la stella come vedete è dall'altra parte mentre se voi andate se ci fate caso nella torre d'avorio la stella stava sulla destra e invece qui la troviamo spostata sulla sinistra perché è la stella di Sirio ok cosa succede? gli oracoli dicono stiamo morendo ti possiamo dire solamente questo noi ci stiamo distruggendo appresso a esso noi siamo vittime di un libro già scritto che non avrà mai fine siamo tutti personaggi di fantasia tu devi andare dal punto di vista creativo dove colui che ci può dare realmente una nuova identità chi è? Bastian devi andare nel pianeta Terra e lì troverai finalmente il tuo Adamo la tua copia di te che ti darà un nuovo nome per l'imperatrice perché mentre tu sei all'interno di fantasia il nuovo nome te lo deve dare qualcuno che a fantasia ancora non c'è mai stato ed è Bastian tra l'altro Bastian fa un riferimento e dice ah un nome all'imperatrice io glielo vorrei dare in realtà io vorrei dare il nome di mia madre che sua madre è morta la madre di Bastian e nel libro si chiama Fiore di Luna una cosa del genere in realtà nel film una critica mi sembra dicono che si chiama Eva Fiore di Luna si chiama nel libro invece mi sembra che nel film si dovesse chiamare Eva una cosa del genere che richiama sempre di più il riferimento che siccome la madre di Bastian è morta lui praticamente è il corrispettivo di Bastian quindi un attimo solo ma oggi quanti sono? quindi che succede? ah detto questo cosa accade? accade che finalmente ecco qua l'oracolo in realtà nel film viene indicato come il guardiano del sapere questo è un oracolo è un guardiano del sapere e chi è il guardiano del sapere? la simbologia mistica chi indica come guardiano? il simbolo di San Giovanni se voi ci fate caso questo è il simbolo di San Giovanni è identico perfettamente centra perfettamente alle sfingi i piedi come in cielo come in terra se voi vedete la testa come in terra questi sono è il simbolo del guardiano di San Giovanni quindi nella simbologia mistica questo qui è riferimento al San Giovanni i guardiani sono di San Giovanni quindi riferimento al Battista e questo simbolo c'entra perfetto ecco perché hanno scelto secondo me anche queste sfingi e finalmente c'è la scena madre dove Atreyu prende il fortuna drago Falcor e vanno sulla terra mentre vanno sulla terra in realtà Atreyu cade casca casca e prende e perde Laurin e la Dan Cadmon non più consapevole mentre sta facendo il passaggio per andare sulla terra non sa più chi è perde Laurin quindi la parte divina viene casca in mezzo al mare e lui Falco non riesce più a trovarlo perché in realtà è cascato dal drago no non è cascato da cavallo è cascato da drago si ritrova in una spiaggia non c'è più Laurin è abbandonato non c'è più metalli non c'è più niente si ritrova in questa specie di posto abbandonato dove lui rivede rivede la sua vita cioè tutto quello che gli è accaduto attraverso un murales di antichi manufatti rivede tutta la sua vita cosa significa questo gesto perché vede tutta la vita che è iniziato da quando è stato iniziato da Chironte fino ad arrivare alla fine lui vede continuamente i murales che si aggiornano cosa accade? in realtà è lo spazio-tempo lui ha viaggiato così tanto che in questo momento di fase che c'è fra fantasia e la terra lui è nello spazio-tempo lui è nel qui e ora quando io vi dico qui e ora che significa che sei lontano dal passato e dal presente in questo momento qui grazie al Christos in questo momento c'è il fortuna drago che è il il tizio lo spirito santo riesce prima di ottenere il Christos di diventare consapevole nel qui e ora quindi lui vede il passato e il futuro e sta in questo momento cosa accade? chi trova anche in questa dimensione trova Mork finalmente è faccia a faccia con Mork Mork gli fa io sto cercando qualcuno lo sto cercando perché devo ucciderlo il compito di Mork è uccidere Atreliu perché Atreliu è colui che può cercare qualcuno come lui per cercare di dare un nome all'imperatrice bambina e ridare di nuovo consapevolezza all'imperatrice e salvare fantasia Mork questo non lo vuole è un personaggio complesso perderò circa cinque minuti a spiegarvelo però ci vuole merita ha bisogno della sua identità nel film lo vediamo come un lupo in realtà non lo è Mork è un individuo è un mago nero perché nel libro è specificato tutto lui spiega e dice tu chi sei io sto cercando colui che può far fallire la mia missione e lui Atreliu furbo molto molto odissea dice io non ho un nome sempre sempre il fattore dei nomi mi chiamo nessuno e fa ah sì io invece sto cercando qualcuno che mi impedirà di fare tutto quello che che voglio faccio che cosa vuoi voglio servire il mio padrone perché lui nel libro non viene questa cosa non si capisce bene nel film lui ha un padrone è un'entità che viaggia tra i mondi mentre il figlio dell'uomo nel libro dice il figlio dell'uomo cioè tuo figlio nel mondo terrestre ha una dimensione come la tua e quella c'ha io non ho una dimensione del figlio dell'uomo ne ho tante perché ci sono entità ascoltate bene quello che dice che dice Michael Henden attraverso Mork Mork è il Moloch no è il mago nero perché Mork racconta che lui è un'entità che vive in tante dimensioni come la terra e tanti mondi dove a seconda di dove va lui cambia forma nel mondo dei terrestri lui ha la forma terrestre nel mondo di fantasia lui assume una forma fantastica che è quella di lupo se lui va a vivere a Nalfa Centauri ha la forma di grigio cioè lui è un'entità che non ha una realtà assume un'identità corporea a seconda dei mondi che visita guardate che è un personaggio stupendo Mork ha deciso di servire l'imperatrice delle tenebre che è il corrispettivo opposto dell'imperatrice infante l'imperatrice bambina che è quella di Atreliu l'imperatrice delle tenebre nel film non viene menzionata non esiste nel libro invece l'imperatrice praticamente si viene detto che è un lupo mannaro ma attenzione viene detto che è un lupo mannaro ma non si trasforma in uomo in fantasia si trasforma in uomo sulla terra è invece in lupo su fantasia quindi lui si dice lupo mannaro ma in realtà lui non ha un'idea specifica non si può trasformare in uomo in fantasia e in lupo in come si chiama nel mondo terrestre ovviamente l'autore ha scelto questa escamotage per evitare che la gente pensasse perché Mor che non si trasformava sulla terra in lupo così ammazzava tutti ha fatto questa escamotage per un limite al personaggio perché altrimenti la storia avrebbe preso un'altra narrativa quindi cosa succede Mor serve decide di servire la principessa delle tenebre e siccome siamo nell'opposto della terra se dio è femminile è normale che il diavolo deve essere la principessa delle tenebre perché viene indicato come il principe del mondo ma se siamo su fantasia la principessa delle tenebre avete capito quindi nel mondo il principe del mondo è lucifero il demone il diavolo se invece nel mondo di fantasia la principessa delle tenebre è femmina che è il corrispettivo di dio e dice siccome la mia principessa sapeva di essere funzionale alla principessa dell'imperatore a dio all'imperatrice dell'imperatrice bambina quindi dice lei qualsiasi cosa faceva era sempre funzionale all'imperatrice bianca quella nera si era stufata perché voleva comandare e che cosa fa Mork viene salvato da lei perché Mork in un momento era distrutto c'era un problema viene salvato curato e coccolato dall'imperatrice oscura e diventa il suo servizio Mork decide di aiutare il male perché in realtà togliete la parola nulla e mettete corruzione prendete tutto il libro e anziché mettere fantasia mettete Eden togliete Atrelio e mettete Adamo Adam Cadmon scusate se mi viene Adamo l'Adam Cadmon e praticamente togliete Mork mettete Mago Nero che ha i servizi del demonio la principessa oscura mettete Diavolo e avrete perfettamente tutta la simbologia mistica della Bibbia tutta perché Mork non è nulla come nel film si capisce il male il servitore no nel film è specificato in maniera perfetta Mork è un individuo che ha non ha una dimensione unica una forma lui assume le forme a seconda dei mondi lupo Mannaro qui è lupo decide di servire il demonio la principessa oscura perché vuole farla comandare e quindi sta avvallando il nulla che è la corruzione che non è il male il male è la principessa Moloch è devoto al male Mork mi state seguendo il nulla in realtà è la corruzione perché stanno utilizzando la corruzione perché la principessa oscura sa che qualsiasi cosa fa sarà funzionale al bene ma se utilizza la corruzione cioè fa sì che il mondo terreno non pensi più a fantasia Dio muore l'imperatrice muore e lei può prendere il sopravvento però nel film c'è un'altra cosa più interessante nel film risponde a Trelio e dice ma perché stai facendo tutto questo sì la corruzione dei uomini ma la corruzione il nulla nasce dalla il nulla la corruzione nasce dalla terra infatti nel film nel libro viene specificato Mork spiega e dice sono stato poco fa in un popolo di fantasmi dove si buttano volutamente nel nulla perché ogni volta che si buttano nel nulla dato che nulla viene dalla terra ti dà la possibilità di venire sulla terra e trasformarti come un essere terrestre solo che quando fai da fantasia vai sulla terra tu diventi un prodotto commerciale un prodotto che serve alla corruzione e ora guardatevi tutte le pubblicità di youtube adesso e godetene di queste cose perché questo libro se l'avesse letto qualcuno avrebbe capito tutta la dinamica che sto cercando di dirvi da anni praticamente Michael Enel fa dire a Mork tutto quello che ho sempre detto io perché se voi prendete un prodotto una funzionale mistico che vi serve a migliorare e lo fate a ritroso nel mondo commerciale diventa putrido e Mork spiega ad Atrelium che in realtà il mondo di fantasia sta per essere ingoiato dal nulla cioè la corruzione perché gli uomini sono corrotti grazie alla principessa e a Mork che fanno avanti indietro per cercare di distruggere la fonte che sarebbe la terra perché i due mondi sono strettamente connessi fantasia e la terra sono connessi perché l'uomo se non pensa a fantasia fantasia non esiste quindi tutto sta maradan perché Mork decide di far vivere tutti sulla paura perché con la paura sono governabili tutti e quindi preferisce che non ci sia più sicurezza nel cuore delle persone ma ci sia paura in modo che lui diventa un signore assoluto cioè vi sta spiegando Michael Henn sto genio attraverso quattro pupazzetti vi sta insegnando il mistero della vita è una cosa di un'intelligenza assoluta geniale quindi Atrelium gli dice e tu stai facendo tutto questo per questo motivo cioè stai servendo l'imperatrice oscura stai facendo avvallare il nulla perché in realtà tutto è appetibile al tuo volere sì per il potere gli fa proprio si apre gli occhi spalancati e gli dice il potere perché in realtà il nulla la corruzione agisce col potere e preferisco il signore oscuro che mi avvalla questa facoltà perché io voglio potere e voglio sudditi inferiori e impauriti ma nel libro viene specificato che siccome lui ha fatto il patto col principe oscuro con l'imperatrice oscura viene fregato infatti lui è dentro la caverna perché in realtà è legato è legato perché è stato una volta che è diventato funzionale alla parte oscura Mork viene fregato c'è una lotta nel libro con Atreliu ma Atreliu talmente l'odio che c'ha Mork che in punto di morte mentre sta per morire stringe le ganasce e e morde una gamba di Atreliu Atreliu poi diventa grigio nel libro cioè diventa un altro essere ma che succede? Succede che in realtà viene corrotto anche lui viene preso avvelenato dalla corruzione nel libro invece nel film è più facile perché Mork ha c'è la lotta finale che Mork va verso Atreliu e Atreliu lo infinza quindi è più facile in tutto questo Ambaradan ritorniamo al libro al film e finalmente il nostro ah qui c'è proprio quando lui uccide Mork il nulla sta per arrivare Atreliu sta per essere spazzato via lui chiama Falcor lo spirito santo chiama l'Adam Cadmon Atreliu Atreliu quella scena lì riesce a prendere casualmente fateci caso Laurin dove lo trova Falcor lo trova sott'acqua quante volte vi ho detto io che il sapere molto spesso è sott'acqua che ci sono i demoni e tutto il resto quindi il sapere viene preso sott'acqua finalmente Falcor trova siamo per finire trova Laurin come vede lo indossa nuovamente Atreliu e finalmente rintraccia Falcor rintraccia Atreliu ma Atreliu ha fallito perché ormai nulla ha distrutto tutto ha vinto il nulla è arrivato prima di lui perché la lotta con Morky ha fatto perdere tempo scusate ma ho sbagliato cosa devo condividere ecco qua Atreliu dice vabbè torniamo dall'imperatrice praticamente vivono nello spazio praticamente stanno stanno a navigare nello spazio perché nulla ha distrutto tutto ma l'unica cosa che rimane è la torre d'avorio e infatti Laurin si illumina verso la torre d'avorio vanno alla torre d'avorio e lui dà la brutta notizia alla imperatrice gli dice ah tra l'altro guardate questa scena qui il drago si ferma il drago che rappresenta lo spirito santo la parte più esterna di Dio nel cuore di Dio non è padre l'Adam Kadmon cioè Atreliu va a fare visita all'imperatrice l'imperatrice si fa trovare all'interno di un bozzolo ma la cosa divertente è che qui fino a qui lo spirito santo non può arrivare quindi l'incontro che ci sarà fra Dio e il figlio non prescinde lo spirito santo e lui aspetterà fuori si chiuderà finalmente quella porta che è stata sempre dove noi vedevamo sempre Cairon e Chirone praticamente quello uomo pesce e finalmente si incontreranno l'Adam Kadmon e l'imperatrice e finalmente vediamo l'imperatrice che se ne parla per tutto il film e tutto il libro e c'è invece una bambina una purezza noi ci aspettavamo chissà quale donnone è una bambina però madre femmina quindi è un Dio completo non stiamo parlando perché allora avviene tutto ciò perché qua Dio ha finito ha completato vedete anche le conchiglie che ci sono della nascita e tutto il resto Atreliu va lì e gli dice mi dispiace imperatrice ho fallito ormai è finito non c'è più fantasia e l'imperatrice gli dice non è vero tu invece l'hai portato qui perché in realtà il tuo Adamo sulla terra grazie al libro che poi tra l'altro sarebbe anche il libro di Salomone sarebbe il libro che è stato preso da Adamo il libro che è stato scritto da Raziel comunque in realtà è il libro dei libri questo che nel frattempo che leggeva la tua storia lui era collegato a te e in questo momento sia Atreliu che il povero Bastian non si capiscono dicono ma che sta dicendo scusi imperatrice Atreliu dice cosa significa io ho fallito non so dov'è il mondo non c'è più e lui fa no il mondo di fantasia ma il mondo terreno c'è colui che ci pensava il mio vero creato quello che va oltre me perché fantasia è l'esternazione di Dio il creato c'è la terra è la ramificazione di Dio quindi cosa fa lui ci sta guardando deve darmi solo un nome e in questo momento sia Atreliu che Bastian sono in crisi perché Bastian dice ma che sta dicendo e Atreliu dice non capisco perché io non ci parlo con questo tizio in realtà sono collegati perché l'Adam Kadmur finalmente è collegato all'Adamo Bastian il venerabile cosa fa praticamente qui sta per morire tutto sta per distruggere perfino la torre d'Avorio il nulla sta arrivando ovunque e lei dice praticamente l'imperatrice gli dice deve darmi un nome Bastian tu che mi stai ascoltando e leggendo dammi un nome e qua Bastian dice la cosa che riguarda tutta l'umanità queste parole sono quelle che racchiudono tutta l'umanità ma non posso devo restare coi piedi per terra ecco qua come distruggere come far cadere gli zebedei a tutta l'esistenza qui c'è proprio voi prendetevi adesso la creazione di Adamo di Michelangelo con Dio e questa è la stessa cosa Dio che piange l'imperatrice che piange gli dice dammi un nome basta quello pensami creami attraverso questo usa il cervello che ti ho dato e lui risponde come tutti i mediocri umani della terra mi ci metto anch'io ci mettiamo tutti non posso devo restare coi piedi per terra quanti pugni in faccia gli avrei dato a sto bambino quando ha fatto sta scena qua però è vera è vera pugni no però schiaffi glielo avrei dati dai schiaffisi pugni no poverino Bastian era pure simpatico come attore detto questo qua c'è proprio crolla tutto questo è il mio Dio perché mi hai abbandonato perfetto in poche parole Bastia non è consapevole di quello che gli sta accadendo fino a quando poi si convince urla e dice il nome il nome è sempre stato controverso perché la regia voleva dargli Eva quindi lui avrebbe chiamato la divinità prossima Eva invece non l'ha mai detto scelta registica fior di luna non l'ha mai detto quindi vedete qua c'è tutto questa immagine di questo povero ragazzino così ve la dovete mettere come poster e dire ma non posso devo restare col piedi per terra ora quando voi non volete fare le cose risponde Bastia per tutti noi bello detto questo e no no che cacci pugni e schiavi no no esagerato detto questo il film finisce che alla fine Bastia si convince da questo nome e l'imperatrice gli dice ecco è rimasto un granello finalmente si incontra con Bastia il creato e col creatore a tu per tu prima si era incontrato con l'Adam Kadmon che era una copia adesso che era la matrice adesso con la copia e dice caro mi ho creato è rimasto questo granello e fa allora non c'è più niente è finito no da questo granello se tu la smetti di ancorarti all'energia terrenica materica qui se tu pensi ancora al mutuo le bollette il fatto che la scuola è compita in classe tu non ci non mi aiuti basta che tu fai la cosa più scema e più intelligente nello stesso momento che ti ho dato pensa immagina creami attraverso dammi un nome e immagina tutto il mio mondo e allora che cosa fa Bastia dice io posso creare fantasia sì incomincia a dire un sacco di belle cose e ti faccio vedere che si realizza fantasia in questo momento finisce il film il film finisce che lui anziché desiderare pensate un po' che la madre risuscitasse a meno a fantasia dato che era depresso per questo motivo decide di mettersi sul drago e fare praticamente i voli pindarici col drago cioè vedi l'intelligenza di Bastia detto così è sciocco ma in realtà c'ha un motivo Bastia nel momento in cui inizia a conoscere il creato Dio non è più è lontano dagli affetti personali il film attenzione si ferma qui dice Bastia continuerà a dare nomi e fantasia ma questa è un'altra storia in questo momento Michael Handel si è rivoltato diciamo sulla sedia oppure sulla tomba non so dove ma si è rivoltato l'autore del libro perché qui è nato tutto aver fatto finire questo film questo libro questo film così è stato una bestemmia perché in realtà il film non doveva finire così mettici un altro quarto d'ora mettici un altro quarto d'ora e spiega veramente come stanno le cose chi non ha letto il libro ve lo spiego in due minuti in realtà questo che abbiamo il film che voi vedete in tv è solamente un quarto o la metà del libro perché tutto il libro è totalmente diverso non c'entra nulla in pratica bastian va nel mondo di fantasia e continua a creare 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 prima di questo passaggio attenzione c'è un piccolo aneddoto l'imperatrice gli dice tu puoi ti do il potere di creare tutto ma prima devi sapere cosa c'era prima perché solo solo sapendo cosa c'era prima tu puoi creare una base dove puoi mettere la tua fantasia perché non puoi mettere la tua fantasia a terrena cioè le cose che si realizzano sulla terra non avvengono a fantasia a fantasia avvengono le cose che tu sulla terra non puoi fare ecco perché la madre non risuscita allora bastia dice e come faccio attenzione leggetevi il libro e ditemi se non è così l'imperatrice gli dice io ho una parte di me speculare dove si chiama il saggio della montagna il vecchio saggio della montagna dove lui registra tutto quello che deve accadere tutto quello che accadrà uno scribba chi vi ricorda lo scribba la memoria Metatron lui lei l'imperatrice dea madre ormai formata sapendo che prima o poi sarebbe arrivata la corruzione per ricreare un nuovo ciclo di se stessa aveva messo in memoria al saggio della montagna che ha tutta in memoria ogni volta che lei si ricicla attraverso un nome dato dal suo creato cioè l'adamo cioè bastian e enoch esattamente enoch che in questo momento non è enoch è metatron ok e lei l'imperatrice conosce l'ansia gli dice lui è il mio il mio doppio cioè quante volte ve l'ho detta questa storia quante volte me l'avete sentita dire la miniera delle immagini sì poi c'è anche un discorso ve la chiudo qua perché bastian rimane praticamente attraverso la memoria che prende dal deo della montagna sotto una specie di uovo che si crea si rinasce tutto l'imperatrice bambina da quel momento non se ne parla più viene totalmente accantonata da quel momento c'è bastian che continua a creare a creare a creare solo che succede bastian è una creatura di dio però incomincia ad avere atteggiamenti quasi divini perché lui ha fantasia è dio lui crea lui pensa e fa c'è una base è vero ma lui fa succede una cosa strana pian piano col tempo bastian si dimentica di essere terreno non si ricorda più di essere umano pensa che sia parte integrante di fantasia che sia un'entità perché nella seconda parte ecco perché si è fermato qui la regista bastian si dà lui un'identità lui dice io non voglio essere grasso brutto con le gambe storte io voglio essere bello forte come a treliu lui si crea bello si dà una nuova identità non è più il bastian di prima pian piano però si dimentica chi è e siccome la creatura deve avere sempre una matrice terrestre per creare più va avanti nel tempo più va avanti su un fantasia più si dimentica l'identità iniziale quella concreta quella materica da dove nasce fantasia e lui perde la memoria incomincia a perdere i pezzi della memoria infatti c'è la miniera come dici praticamente sì sto un po' spoilerando però che succede praticamente in questa miniera lui comincia a disperdere a distruggersi perché mancano i pezzi incomincia a trovare pezzi di sé ma non sa che se viene prima se viene dopo niente lui perde totalmente lui non è Dio lui lui non si ricorda di essere un creato è un creato non può mettersi al posto di Dio perché lui deve stare dall'altra parte ha la sua funzione lui va avanti incontra un leone che è di tanti colori che poi ogni volta che muore a seconda del deserto che tocca muore e rinasce la mattina durante la sera nasce una foresta questo leone diventa consapevole del fatto che da lui nasce la vita e la morte gli dice quattro lezioni morali a Bastian e Bastian si crea addirittura degli individui aiuta dei depressi e non li doveva ogni cosa che fa dove tocca purtroppo il creato fallisce quindi non essendo un essere divino essendo un uomo fallisce piano piano incontra di nuovo l'Adam Caldman incontra di nuovo il suo doppio incontra Trelio e a Trelio dice ma scusami ma che ci stai a fare ancora qui non lo vedi che tu stai esaurendo totalmente la tua fantasia perché tu non hai una fantasia infinita se non ti ricordi di essere terreno perché la fantasia è una conseguenza di quella terrena cioè se tu sei ancorato alla terra e pensi e vadi allora funziona se tu sei da questa parte non funziona più allora Trelio gli dice ti ricordi com'eri? tu eri grassoccio eri brutto cioè torna di nuovo com'eri almeno così ti rendi conto di essere umano lui si incavola dice ah tu sei ingeroso sei invidioso e fa una lotta contro a Trelio combatte contro a Trelio si scannano fra di loro nasce addirittura una guerra lui praticamente essendo un uomo umano praticamente Bastian combatte contro tutto l'impero che aveva creato perché lui vuole ergersi l'unico come Dio perché va in un paese il paese dei sovrani e si accorge che questi sovrani cosa fanno? prendono una carriola e prendono il nulla frattaglie comunque una serie di decadenze assurde cosa fa? finalmente Bastian capisce che lui è un golem lui è una creatura non è Dio non può giocare a fare Dio la stessa cosa ogni volta che l'uomo gioca a fare Dio in questa realtà creando una una creatura da nulla gli si rivolta contro e alla fine cosa succede? una creatura un creato che passa dalla parte del divino facendo e funzioni del divino alla fine fallisce perché il suo scopo è pensare alla fantasia non è crearla deve pensarla è Dio che la deve creare sotto forma di idee e deve oggettivarla nel nostro mondo così funziona questa è la canalizzazione quindi noi pensiamo a un divino pensiamo e il divino crea le idee innate per poi oggettivarle nella nostra realtà è complesso ma è così secondo le filosofie mistiche che sono fantastiche Bastian si ritira e dice è vero devo tornare sulla terra ricordarmi chi ero e che cosa fanno sia Atreliu che il fortuna Drago Falcor lo accompagnano a delle acque della purezza ricordo come si chiamano le fontane della purezza e lo battezzano quindi il creato viene battezzato dall'Adam Caduan da Atreliu e dallo Spirito Santo ed è una cosa stupenda perché poi Bastian ritorna a essere se stesso e poi il libro svolge alla fine quindi abbiamo scoperto abbiamo quanto è grande questo libro spero che vi sia piaciuta la mia analisi è molto complessa vi consiglio di tenere con voi questo libro perché in realtà il segreto di Fantasia ah poi tra l'altro ci sono delle bellissime murali che Michael Handel fa dice questa è una strada per arrivare a Fantasia per arrivare a Dio ce ne sono tante altre non vi dovete fissare su questa questa è stata quella di Bastian ma sicuramente ce ne saranno altre che vi faranno arrivare a questo questo è il mio regalo per l'estate spero che vi sia piaciuto e ci possiamo vedere ai seminari dove io insegno come riuscire ad attivare la vostra parte archetipale per cercare di arrivare voi alla vostra strada come dice Michael Handel ognuno ha il suo libro da scrivere ognuno ha la sua storia infinita da scrivere voi avete la vostra storia infinita avete qui più dieci miliardi di cellule d'euro più delle stelle conosciute se noi dovessimo oggettivare tutti i pensieri che solo un cervello riesce a fare non ci sarebbe spazio per l'universo pensate un po' quindi abbiamo tante facoltà avete tutte le armi ma dovete solamente scoprirle come il libro della storia infinita ci insegna è una divinità che sa che è completa sa che la corruzione è sempre dietro l'angolo la corruzione in realtà è nulla che attira tantissimo perché la gente si ci butta infatti come vedete la corruzione attira di più quando si torna dal mondo delle idee nel nostro mondo in realtà diventano forme di prodotto commerciale vi dice qualcosa eh guardate se qua sotto c'è qualche pubblicità cioè vi si attiva per caso un logo no perché perché sarei contraddittorio sarei corrotto e invece preferisco in questo momento se Dio vuole fino a quando vuole Dio di essere coerente ok ci perdo sì ma almeno il mio compito nella vita lo sto facendo potevo essere un simbologo tutto quello che io sto scrivendo che sto dicendo a voi oggi d'estate che vedranno sicuramente molto meno persone di quanto potrebbero vederle ad autunno io lo sto facendo con voi una specie di selezione naturale lo faccio con voi ma perché perché voglio l'aureola no perché io potevo per ogni diretta che ho fatto potevo farci un libro io conosco autori che scoprono un decimo di quello che io dico in una diretta e fanno un libro stanno per i cavoli suoi quando mi cercate non mi trovate comprate il libro e conservatelo quando mi cercate non mi trovate come diceva quello che vende il sale si nascondono poi fanno il libro spuntano dappertutto lo vendono si fanno i loro soldi e se ne vanno io sono due anni che non mi stacco da qua che sto a contatto con voi perché in realtà io potevo fare la via del simbologo che male c'è le scoperte ce le ho la creatività ce le ho avrei fatto otto nove libri solamente per per una playlist ma non l'ho fatto perché non serviva a nulla non serviva a niente questa è la verità secondo me è stato più funzionale cercare di fare le cose insieme condividerle crescere insieme e non speculare solamente sul sapere lo farò il mio sogno è fare libri quando avrò tempo lo farò devo fare libri io voglio fare una bella collana di life new con tutti i miei libri li sto pensando li sto scrivendo ma non è il mio fine sarà qualcosa che vi accompagnerà qualcosa che mentre guardate una diretta troverete molta più espansione più respiro che ti può dare la lettura ce l'avete lì con voi ve la tenete custodita ma no che io me li ritiro mi faccio i cavoli miei poi mi chiama l'editore perché quello è guardate che gli editori continuano a tartassare tutti i canali youtube perché devono vendere questi libri e fanno delle cappellate incredibili scusatemi i termi ah la diretta è finita questo discorso vale per la mia community per le persone che mi seguono al di là delle dirette va bene quindi a tutti gli hater che poi commenteranno e diranno smettila di parlare io parlo perché è il mio canale va bene vi dico adesso vi avviso vi dico che la diretta è finita quindi potete cancellare potete andare via tanto io se siamo 200 300 100 non guadagno rimango solamente con la mia community datemi 5 minuti a volte sono gli stessi editori che continuano a proporre a tutte le a tutti i canali i loro relatori e poi succede quella cosa che è contraddittoria perché magari trovi un relatore che dice che ah ma quello la diretta precedente trovi quello l'ha detto una cretinata sono tutte scemenze e sotto trovi invece la diretta subito dopo di quello che dice le scemenze dell'altro cioè dice ma che canale è cioè prima invitano uno che dice che Dio non esiste poi invitano uno che dice che Dio esiste e io mi confondo cioè che percorso sto facendo non si capisce nulla questo avviene perché dietro gli editori dei libri spingono spingono ma non guardano i canali non sanno dove mettono i propri relatori io per fortuna non avendo questo complesso e questo problema metto chi voglio e metto una coerenza io non inviterò mai qualcuno che dice che l'atterio dell'altro fa schifo perché voglio una certa coerenza anche fra i relatori tutti i relatori che vengono nel mio canale sono tutte persone che hanno un minimo comune denominatore non denigrano l'opinione dell'altro tanto facile in altri posti siccome sotto ci sono gli editori quello che fa parte dell'editore denigra quello che fa parte dell'altro editore e succedono queste cose voi intanto guardate le dirette perché a molti interessa solo intrattenersi non gliene frega nulla di retroscena di un canale che gliene frega è come il teatro la gente vuole vedere solamente lo spettacolo che cavolo gliene frega di sapere cosa succede dietro ma in realtà quello che succede dietro è la verità e quello che viene nel palcoscenico è una messa in scena messa in scena quindi molto spesso tutti i canali fanno messa in scena e sotto sotto si danno le cortellate invece io ma ne frega niente mi scrivono sotto chiamano apposta i hater per scrivermi sotto delle è tanto semplice ci sono mille canali perché non te li vai a vedere no chiamano gli hater per scrivermi contro e vabbè felici loro quindi non si fanno abbonamenti perché non si fanno abbonamenti ve l'ho già spiegato non faccio abbonamenti perché in realtà la qualità scende è inutile negarlo quando tu fai un abbonamento in una piattaforma se ti piacciono i film horror quella produzione ti farà 100 film horror al mese vuoi che siano tutti di qualità è impossibile compro dei sceneggiatori che mi fanno tutte le copie in colla e se faccio un abbonamento devo per forza dare un prodotto soprattutto succede una cosa pure brutta se io invito dei relatori a raccontare quello che sanno che sanno la gente avendo già pagato quindi 40 euro l'anno un canale abbonato costa 40 euro l'anno se voi già vi abbonate a tre canali sono 120 euro quindi potete farvi tranquillamente un corso un seminario con me anziché farvi l'abbonamento da casa però date 120 euro all'anno secondo voi chi va a pubblicizzarsi in questi canali di abbonati avrà un giovamento? no perché la gente ve lo vedrà come un prodotto io non faccio abbonamenti perché voglio che tutti i relatori che vengono a LifeNews siano liberi così voi potete interagire con loro potete comprare avete i soldi i soldini per comprare il loro libro e non avete i soldi spessi sull'abbonamento secondo voi quando uno fa queste cose o ve le dice può stare simpatico agli altri canali no è normale che sta antipatico perché io vi dico delle cose che gli altri fanno e non si accorgono che sono incoerenti per non dire altro io sono contro il potere e sotto poi mi faccio pagare dal potere stesso delle major pubblicitarie faccio la diretta sul veganesimo e sotto mangiate panino americano dove ci porta tutto ciò dove ci porta per quattro spiccioli ma dove ci porta ma smettiamola se uno parla sempre di iniziazione qui o ora e poi che cosa fa continua a comportarsi alla stessa maniera ma dove andiamo poi sei costretto a stare tutto il mese lì tutto il mese a mandare dirette dirette signori miei se io mi sento male io ve lo dico oggi dirette non le faccio pazienza ci vediamo domani ma non che io mi devo ammazzare a fare tretta diretta al mese ogni giorno poi ti viene bene tanto che io devo coprire sui tappabuchi sul calendario una volta mi ha chiamato un canale e ciao ciao e senti dove ti posso piazzare a te io lo faccio scusami ma tu mi hai chiamato e mi chiedi a me dove mi devi piazzare sì perché mi è rimasto un buco a febbraio senti ma se agosto la facciamo cosa ne ma è pazzo questo sono pazzi cioè questi mi chiamano e mi chiedono a me di iscrivermi nel loro canale e chiedere quando io posso fare la diretta con loro ma siete pazzi io c'ho la mia realtà faccio ma tu hai visto qualche mia diretta sì sì e allora che cosa mi domandi no dove ciao possiamo fare una diretta insieme sì certo allora dimmi tu anzi ti do io la nostra disponibilità sì ti piazzo l'undici agosto se no sono di matrimonio e allora ti piazzo a maggio ok vabbè sì sentiamoci a maggio mi chiamo a maggio senti ma a dicembre te la fai un'altra perché a maggio sono impegnato perciò vabbè ciao tutti pazzi tappa buchi tappa buchi tappa buchi non c'è una linearità una coerenza eh guardate guardate vi annuncio che prima che finisce agosto forse mi chiuderanno il canale eh sì me lo chiederanno perché ho intenzione di fare una diretta molto scottante la più scottante toccherò qualcuno di veramente potente e forse questa non me la faranno passare quindi godiamoci sto mese perché mi sa che stavolta va a finire male eh lo so ma lo devo fare ce l'ho qua ce l'ho qua lo devo fare basta lo so lo so lo so è triste lo so però lo devo fare comunque amici miei è sempre un piacere stare con voi un'estate calda ma mi fa piacere stare qui bello e ce ne saranno altre e non vi preoccupate perché sentiamoci su telegram e vediamo un po' come fare ok io vi aspetto sempre i miei tour e i miei seminari venite il 20 agosto a Chiara Valle venite il 27 a Torino per lo skywatching e la sagra di San Michele facciamo tutte e due assieme guardate che facciamo un idea stupendo facciamo simbologia e ufologia un'altra cosa per chi il 6 il 6 c'è la conferenza di Alfredo Piacenza domani vi mando la locandina forse ci sarò ci vado anch'io ci sarò anch'io se vogliamo andare alla conferenza di Alfredo ci vediamo lì a Piacenza vi mando tutto domani domani mattina mando la locandina ok un abbraccio che sono distrutto sono stanchissimo rimarrei con voi a parlare per altre due ore ma fra un po' Streamyard mi fa pagare 50 euro a diretta per tutte le ore praticamente che carico perché sappiate che le giga si pagano anzi se volete aiutarmi a sostenere questo canale qua sotto c'è Paypal e la posta Pay se volete mandarmi un caffè in modo che così mi pago i giga per conservarmi tutte le dirette perché se un giorno praticamente mi chiudo nel canale almeno ho qualcosa di registrato un abbraccio mettete un like sulla fiducia iscrivetevi così rimaniamo tutti vicini e collegati faccio su Rumble che dì no la faccio su Rumble su Rumble dirette non se ne possono fare ci vuole pagamento non posso fare però sappiate che è difficile farò una delle dirette vi ricordate la porta dell'inferno? peggio peggio ciao buonanotte a tutti